Il risultato giusto? Ha stato un partito molto complicato, nel secondo tempo abbiamo avuto una buona reazione, si poteva perdere perché il Depo ha giocato con molta aggressività, con molta intensità e noi abbiamo subito per molti tratti della partita, quindi è il risultato che portiamo a casa ma dobbiamo lavorare molto e più, lavorare molto. Per un momento os sorprendi il Depo, soprattutto nella prima parte, os esperavais un inizio del conjunto local? Sì, perché giochiamo in casa di una squadra importante, una squadra che ha un equipo che sta avendo difficoltà, però è un equipo vivo, un equipo che ha voglia di recuperare i punti, quindi siamo rimasti sorpresi, non dovevamo pensare di uscire giocando corto, ma dovevamo contropressare subito. Próximo partito, anche qui in Galicia, Celta di Vigo. Io sono arrivato, quattro partite, tre trasferte e una in casa col Barça, quindi questo è il calendario e dobbiamo arrivare preparati. Grazie. 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 Grazie.